Ultime notizie. Da oggi non serve più risciacquare gli imballaggi in vetro prima di differenziarli. Basterà semplicemente svuotarli da eventuali residui. Il vetro verrà in ogni caso trattato e reso idoneo al riciclo. Inoltre potrai lasciare etichette o altri materiali che non vengono via, eliminando solo ciò che è facilmente asportabile. Nei contenitori blu puoi mettere bottiglie di vetro senza tappi, vasetti di vetro senza coperchi se di altro materiale, damigiane max 5 litri senza paglia. Fai attenzione, ci sono dei materiali che, se gettati insieme al vetro, possono vanificare l'intero processo di riciclo. Dunque evitate assolutamente confezioni di farmaci, neon, pyrex, vetri ceramici, ceramica, porcellana e altri inerti oggetti di cristallo e lampadine. Hai delle domande da porgere in merito alla raccolta differenziata? Scrivici al numero 370-366-7210. Ti daremo tutte le risposte.